16 metri, tende solo il fischio di Graci, può partire stoppa, palla interessante nel mezzo, il colpo di testa! E il gol di Tonucci, terzo tempo perfetto, palla in angolino, impossibile arrivarci per Branduani, minuto 11 dal primo tempo, passa la Juve Stabia, il gol di Tonucci, 1-0. Io penso che questo sia un gol preparato benissimo da Novellino, dall'allenatore, perché si è vista la linea difensiva del Catanzaro a presidio dei propri 16 metri, marcando a zona, ma i saltatori della West High sono partiti col terzo tempo, con la rincorsa, e quindi ottimo l'impatto di Tonucci che ha fatto un gran gol. Vivalini ha scosso la testa, ha abbassato il cappellino sugli occhi, ha parlato fitto con la sua panchina, non è convinto dell'abbio del Catanzaro, Novellino a differenza di quanto mostrato nei primi...